Non è bastata la rottura tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco di Gela Domenico Messinese per far cessare il fuoco. All'indomani del provvedimento di espulsione del primo cittadino dal Movimento dei Grillini arriva la notizia da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che gli stessi hanno accantonato la somma di 3.600 euro da impegnare per la realizzazione di un progetto avente utilità per la comunità di Gela, come si legge nel comunicato stampa. La somma consisterebbe in una parte dei gettoni di presenza ricevuti fino al dicembre 2015 dai consiglieri comunali Vincenzo Giudice, Angelo Amato, Simone Morgana e Virginia Farruggia e inoltre nella somma sono confluite parte delle indennità complessive ricevute dagli ormai ex assessori Chetti Damante, Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola. Ma è proprio il taglio degli stipendi e delle indennità uno dei campi in cui imperversa la battaglia all'interno del Movimento 5 Stelle anche sui social network. Il vice sindaco Simone Siciliano parla di ipocrisia e rilancia. Come mai i tre assessori non hanno proceduto alla riduzione dello stipendio? I video dei consigli comunali dimostrano che l'amministrazione per voce del sottoscritto ha dichiarato che provvederà a dare seguita alla rimodulazione degli stipendi nei modi e nei tempi opportuni compatibili con la legislazione italiana. Tuttavia c'era in giunta chi non lo vedeva. Questo non è tutto. In queste ore si attende infatti il ricorso del primo cittadino di Gela, Domenico Messinese, avverso il provvedimento di espulsione dal Movimento 5 Stelle che del mancato taglio allo stipendio ha fatto il suo cavallo di battaglia. Sì, stiamo istruendo un ricorso perché io mi sento 5 Stelle e noi siamo 5 Stelle, siamo un'amministrazione 5 Stelle e di essere additati di qualcosa di diverso sinceramente pesa. Pesa soprattutto per i tanti italiani che hanno creduto in questo movimento come il sottoscritto e come tutti i componenti dell'aggiunta. Quindi faremo il nostro ricorso dando la verità reale. Essere 5 Stelle vuol dire essere prima informato, prima di parlare. Questo devo dire che ultimamente sta avvenendo meno. Quindi ci è sembrato doveroso per tutte quelle persone che ci hanno votato di dare una risposta, una risposta dando le nostre spiegazioni a questo evento increscioso, pretestuoso, soprattutto anche nelle motivazioni. Poi vedremo come si evolverà la situazione. Però è chiaro che farci invangare in modo gratuito non lo permettiamo a nessuno. Sono rimasto molto deluso per l'ipocrisia che ho notato dietro questa azione azione che ricordo che in realtà è formata da un piccolo numero di persone. Persone che come tali sono fallaci e che bisogna tenere conto. Credo che nessuno è unto dal signore e che bisogna comunque prima di parlare analizzare realmente i fatti in modo tale di avere un'idea chiara. Quello che mi dispiace, fra le altre cose, è questo stilicidio mediatico, questa istigazione a metodi sicuramente brutali nei confronti di un'aggiunta che non se li merita sicuramente e che sono lontane, ma veramente lontane dalla idea del Movimento 5 Stelle, dove noi parliamo di onestà, dove noi parliamo di consapevolezza, dove parliamo di collettività. Grazie a tutti.